Ciao ragazzi, mi abbono in questo nuovo video Io sono l'orancio07 E oggi giocheremo a ProStat per arrivare Alle 7000 coppe Ci mancano 3 coppe Per non perdere Mi faccio una bella Sopravvivenza 2 Andiamo E speriamo che ce la mangi buona Perché voglio arrivare a queste maledette 7000 coppe Voglio dire che Dissi io però Ok Per il divider No Vabbè, andiamo Ok, sono in partita Però il bull è troppo forte Tieni se è power up Se ne vado lì da solo Sopravvivenza 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 Sono l'importante Scappato Sopravvivenza No No, vabbò Oh, noi siamo il primo Quello là che dovrebbe vincere Cosa Eh Eh Eh, ragazzi, no Sopravvivenza Settemila coppe Gigi Settemila coppe Vabbè Io ragazzi Io mi vado a suicidare Perché comunque Settemila coppe Portate a casa Questo è il grado 13 Corvo Ehm Prendi megacassa E non troviamo nulla Ecco L'ho detto Non troviamo nulla Però ragazzi È una megacassa Ci dobbiamo un po' Accontentare Eh, ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate like E iscrivetevi al canale Guarda Pure Corvo Lo dice Di lasciare like Guardate Dovete lasciare like Vuol dire Ci vediamo ragazzi Ciao Ciao